Una Triestina alle prese con una situazione di classifica molto negativa, occupata a dover smentire fake news relativa a una possibile accessione societaria o la sostituzione di alcuni dirigenti, si trova in questi giorni a gestire le trattative per il mercato invernale che dovrebbero apportare diverse modifiche all'attuale Rosa. Quotidianamente circolano nomi di giocatori vicini a vestire la casacca rosso alla bardata. In questi giorni i rumors più fondati si sono concentrati sul ritorno a Trieste del difensore Alessandro Malomo e sul centrocampista Umberto Germano dal Padova. Per Malomo, come detto, sarebbe un ritorno vista la sua permanenza all'Unione dal 2018 al 2020, sempre con Pavanelli in panchina. Lo stato della possibile trattativa e la formula del trasferimento però non sono chiari. Il secondo menzionato, Umberto Germano, è il nome delle ultime ore. Sul fronte padovano lo danno per uscita e molto vicino a Trieste, se non addirittura con un accordo in tasca per il quale però manca l'ufficialità. Sul fronte del calendario la squadra di Pavanelli ritornerà in campo per la prossima di campionato domenica 8 gennaio alle 14.30 contro l'Arzegnano Valchiampo. Match che si giocherà a Trieste e allo Stadio Rocco, così come quello successivo sabato 14 gennaio contro il Novara. Due gare interne dove difficilmente si vedranno già molti volti nuovi. Di nuovo però con il 2023 i tifosi sperano in un cambio di passo riguardo dei risultati.